Nell'ultimo match del 2023 l'Avezzano regala tre punti sotto l'albero ai suoi tifosi e rosicchia terreno alle altre contendenti del Girone F contro un Sora che ci prova ma paga Dazio per l'inizio di gara timido decide la rete di Ordolini nel primo tempo. Calcio d'inizio per i padroni di casa pronti via e occasionissima per gli abruzzesi Mascella si ritrova tutto comodo il pallone nel cuore dell'area avversaria ma già batta la conclusione poco male perché al tredicesimo si sblocca il risultato Filippini Pennella ancora per Mascella Simoncelli riesce a salvare i suoi sul proseguo dell'azione Ortolini contro il pallone collo pieno e bordata sotto il 7 per l'1 a 0 locale. La prima azione pericolosa dei Volci arriva solo al quarantesimo Ippoliti pesca alla perfezione Palma che pecca di cattiveria da ottima posizione a un giro di lancette dal termine ancora i marsicani vanno vicinissimi al raddoppio Senesi sguscia in aria apre il compasso ma non c'entra la porta lamentando una deviazione non concordata da Bonci di Pesaro. Nella ripresa l'undici del presidente Pecorelli va ancora vicino al raddoppio Senesi fa spallate con un razzo cross al bacio per Ortolini che impatta ma non c'entra il bersaglio grosso sciupando un'ottima chance al 65esimo risponde il Sora. Il neo entrato Gubelini riesce solo a spizzare l'invito di Chiriglio. I bianconeri spingono sul pallone perso banalmente Gubelini e Chiriglio non riescono a deviare e cadono a terra. Vibranti le proteste della formazione di Mister Campolo che chiedeva la massima punizione. La gara procede senza troppi sussulti. A 5 dal termine rischia ancora il pasticcio e la compagine marsicana. Chiriglio per Palma che trova una fortuita deviazione con il volto di Angelilli. Bravo Brusca a evitare guai peggiori. Alla fine la spunta Lavezzano che rosicchia terreno per quanto concerne le posizioni più nobili della gradatoria. Il Sora cede il passo pagando forse un po' troppo caro l'inizio di gara un po' timido. È una squadra che gioca bene, l'avevo detto, ha messo in difficoltà chiunque. Poi anche nelle sostituzioni oggi avevo soltanto Ortolini perché Roberti non ha smaltito la fatica del campo di Fano. È andato vicino a farsi male di nuovo quindi abbiamo preferito non rischiarlo. Damceschi ha accusato un problemino dietro al ginocchio che gli dava fastidio. Poi erano due mesi e mezzo che non giocava. Ci stanno tante sfaccettature che bisogna considerare. Alla fine l'unica cosa che conta è il risultato. Il risultato è stato portato a casa. È normale che non c'è da illustrarsi gli occhi ma io non credo che in questo girone quando gli altri vincono 1-0 andiamo a vedere se hanno giocato bene o hanno giocato male. Quello che conta per me sono i tre punti e oggi sono stati portati a casa e ribadisco. Siamo secondi in classifica, lo ribadisco con grande forza. No, no, assolutamente no. È stata una partita un po' yellata per certi aspetti perché l'unica occasione che abbiamo concesso ha fatto un gran gol. Complimenti al ragazzo che ha fatto gol. Peccato. Come approccio secondo me non è stato timido. È stato un approccio che comunque giocavamo contro la grande squadra che veramente ha investito tanto, punta a vincere il campionato ma tra le due squadre oggi chi sembrava che dovesse vincere e giocava meglio sono stati noi, nettamente. Però il calcio è letale, è bello anche per questo. Abbiamo vinto in passato qualche gara giocando meno bene. Per cui bisogna subito andare adesso in pausa. Facciamo gli auguri a tutti, oltretutto ne approfitto. Bisogna lavorare. Sono contento della prestazione perché è stata fatta un'ottima prestazione. C'era un rigore sacrosanto a mio avviso che avrebbe comunque stato portato forse il pareggio. Però il calcio toglie e il calcio dà. Noi dobbiamo analizzare, come ha detto ai lavori, le prestazioni. I ragazzi sono stati veramente bravi, grande gara, bravi ragazzi. È un peccato perché quando si perde così dà fastidio però. Sì, quindi il bilancio del giro è andata assolutamente positivo. Potevamo fare di più, potevamo raccogliere di più, poteva succedere anche l'esatto contrario. Ci stiamo cimentando come gruppo, stiamo finendo di conoscerci. Stiamo lavorando allacremente per cercare di cancellare questi momenti di distacco della spina che ogni tanto ci succede. Quindi sono assolutamente fiducioso che ripartiremo dopo la sosta natalizia con la stessa intensità e la stessa convinzione che ho visto oggi nei ragazzi.